Maria Cattolica Revisore Maria Cattolica Revisore Maria Cattolica Revisore Maria Cattolica Revisore Ci raccontiamo ogni giorno quanto è bello il nostro paese, quanto ci piace vivere in Italia e quanto l'Italia è uno dei paesi più belli al mondo. Ci raccontiamo quanto la moda, quanto l'arte, quanto tutto ciò che vediamo intorno a noi ci piace, piace al mondo. Basta la mattina fare un giro in un qualsiasi centro storico in Italia, in una qualsiasi campagna per vedere la bellezza del nostro paese, la bellezza incredibile, unica al mondo. Quello che spesso ci dimentichiamo è che quella bellezza è fatta da alcuni talenti che l'hanno creata, alcuni pittori, alcuni scultori, alcuni creativi, registi, qualsiasi essi siano, che ogni giorno con la loro passione, con la loro voglia di fare, hanno creato quelle cose bellissime che vediamo intorno a noi. Ce ne sono alcuni famosissimi, ce ne sono alcuni che spesso neanche ricordiamo il nome. Si sono tramandati nelle epoche, ma quello che è rimasto è sempre la loro voglia di cambiare la situazione attuale, del provare a migliorarla, del provare a trasformare quella loro passione in un qualcosa di concreto che impattasse non solo su se stessi, ma soprattutto su tutti gli altri, su tutto il resto del mondo. Oggi siamo in una fase di down del nostro paese, una fase di crisi. Basta aprire un qualsiasi giornale per leggere la crisi economica, la crisi di valore, le crisi religiose. Quanto tutto vada anche male. E questo fa sì che spesso ci chiudiamo in noi stessi e non guardiamo più cosa c'è intorno a noi. Quello che sta avvenendo, però, è un rinascimento del digitale. Siamo in una fase in cui, grazie alla tecnologia, ognuno di noi può provare a costruire il proprio futuro. Quello che accade è che, grazie agli strumenti semplici, con poche barriere all'ingresso, noi riusciamo a costruire e a migliorare tutto ciò che abbiamo intorno, che siano i mestieri più tradizionali, quando hanno fatto la storia del nostro paese, con una manifattura intelligente, che siano piattaforme totalmente online che permettano di connettere persone, oggetti, qualsiasi essi siano, abbiamo la possibilità, nelle nostre mani, di cambiare cosa sta succedendo intorno a noi. I leader di questo cambiamento, che non è italiano, ma è mondiale, è globale, li conosciamo bene, sono volti noti, sono coloro che, grazie all'unione del digitale, della tecnologia, del provare a cambiare ciò che vedono intorno a loro, provano a cambiarlo, costruendo non più semplicemente degli oggetti, delle cose, ma delle aziende, delle cose che cambiano e impattano su ognuno di noi. Sono i nuovi talenti, non solo, solamente internazionale. Massimo ha parlato prima, ce ne sono tantissimi altri che stanno costruendo le cose che sono molto anche riconosciuti a livello internazionale, perché stanno, tramite la tecnologia, impattando su tutto il mondo, dalla manifattura intelligente, al mondo della salute, al mondo della moda, al mondo della musica, mondi che sono stati nostri, che sono stati, che sono nati in un paese come l'Italia, che spesso oggi si stanno distanziando e stanno scappando all'estero. Il tema è, negli ultimi 5-600 anni ci sono sempre stati un aiuto concreto a questi talenti che nascevano. Se pensiamo alle corti dei mecenati che avvicinavano e mettevano intorno a loro i migliori talenti di quel periodo, i migliori creativi, i migliori artisti, le persone che potevano aiutare loro stessi, i loro mecenati, ma che soprattutto, stando vicini, creavano dei giardini, dei luoghi in cui si autoalimentavano, e questo faceva sì che ognuno di loro crescesse e migliorasse se stesso nello stare vicino agli altri, perché non c'era qualcuno dall'alto che insegnava, ma ognuno insegnava agli altri. Ognuno, insegnando agli altri, cresceva, si migliorava e creava delle cose meravigliose che oggi vediamo tutti i giorni. Nel Settecento e nell'Ottocento c'erano i caffè letterari, dei posti dove gli artisti, gli scrittori, si incontravano, bevevano un caffè, ma soprattutto discutevano, parlavano, cambiavano e scambiavano idee tra di loro. Nel Novecento il nostro paese è stato reso grande da quei distretti industriali che si verticalizzavano e aiutavano e permettevano alle diverse aziende in determinati settori di aiutarsi, di crescere insieme, di creare una filiera e di essere rilevanti a livello internazionale. Sono luoghi che hanno sempre però delle caratteristiche. Il mettere vicino le persone, in modo fisico, perché soltanto con una partita a bigliardino, soltanto con uno scambio di idee, per quanto focoso esso sia, che possono nascere nuove idee, nuove cose, nuove passioni. Una selezione, perché bisogna lavorare sui migliori, su quelli che possono davvero cambiare le cose. Mettendoli vicino, mettendoli a contatto, autoselezionandoci, non ci deve essere qualcuno dall'alto che dica cosa fare. Devono essere le persone che si autoselezionano e devono essere nello stesso settore, perché la vicinanza di idee, di passioni, permette loro davvero di crescere insieme, di aiutarsi, di creare cose meravigliose. Oggi non ci sono più i mecenati, ce ne sono molto pochi, ci sono pochi caffè letterari, ci sono ancora qualche distretto, anche se molto in crisi. Perché? Forse perché oggi è cambiato come sono, quali sono i nuovi creativi, quelli che stanno imbattando davvero sul mondo. Queste sono persone che si uniscono nei co-working, nei luoghi della condivisione, sono dei luoghi fisici che permettono a coloro che oggi lavorano con un computer di costruire il loro futuro, di avere gli strumenti, che non è oltre a una connessione internet, è un posto dove stare. Perché è vero che ognuno di noi tutti i giorni lavora online con persone all'altra parte del mondo, e basta Skype, basta qualsiasi strumento di connessione per lavorare insieme. Ma quando siamo vicini, quando torniamo a quel caffè, quando torniamo a quella stretta di mano, sappiamo che è lì che nascono le cose più belle, le idee più vere, i momenti migliori. Quello che noi abbiamo provato a fare è stato proprio questo, è dire cos'è che oggi può permettere di far stare insieme le persone di talento, di valore, che gli permetta di credere in questo paese, perché è inutile che ci lamentiamo di un paese che va male se non proviamo ad aiutare chi questo paese lo sta provando a creare, se non gli diamo gli strumenti per poter crescere e per potersi sviluppare, che non è qualcosa dall'alto di finanziamenti pubblici, attività di questo tipo, sono cose semplici, sono quella contaminazione naturale che si crea nel mettere insieme persone che fanno cose simili e che sono animate dalla passione del farle. Siamo di Brescia e siamo partiti tre anni fa dalla nostra piccola città, una città con una grandissima forza imprenditoriale, con una grandissima... nel DNA inserito ormai di tutte le persone, ma forse una delle città oggi più in crisi. E abbiamo provato a creare un luogo fisico che contenesse queste persone, che gli desse quelle basi di strumenti per poter realizzare le loro passioni, per poter trasformare le loro passioni nelle loro attività. E questo lo facciamo dandogli uno spazio fisico, un banale ufficio, una scrivania, una cosa fisica dove possano stare vicino tutti i servizi e tutte le cose di cui possano avere bisogno per essere focalizzati sul loro business, ma soprattutto li connettiamo con il mondo e con loro stessi. Perché crediamo che oggi il business non possa più essere locale e qualsiasi idea parte debba da subito essere pensata globale. Quindi una rete di Patreon, una rete di spazio in giro per il mondo ti permette di rimanere locale, non scappare dal tuo territorio, che è quello che troppo spesso avviene. I giovani oggi prendono, vanno, vanno a Londra, vanno a San Francisco, sono animati dal pensare che solo in questi ecosistemi si possa fare. Quando invece si può rimanere a casa propria, ma bisogna essere connessi a livello mondiale. Di questi talenti l'Italia è veramente piena. In questi tre anni, quando tre anni fa siamo partiti, ne abbiamo scoperti tantissimi. Gli Stylas sono due ragazzi, fotografi bravissimi, che noi abbiamo scoperto quasi per caso nella nostra città. Erano davvero in uno scantinato di una zona secondaria di Brescia e facevano delle fotografie che erano famose in tutto il mondo, firmavano copertine di magazine, di riviste, ma nel loro territorio, nel loro paese, nessuno li conosceva. Perché erano verticali, facevano il loro lavoro, lo facevano benissimo, forse troppo bene, nessuno li riconosceva, nessuno li aiutava e non erano mai riusciti ad emergere nella loro città, nel loro territorio, che è quella cosa che ti dà la forza. Perché quando ti svegli la mattina, per quanto puoi aver fatto qualsiasi raggiunto, qualsiasi successo professionale, ma le persone intorno a te non ti conoscono, non ti danno quel valore aggiunto e tu sei da solo per quanto bravo, dopo un po' ti spegni diventi una piccola fiamma che non c'è più. E quindi sono entrati all'interno di TAG. Altre persone come Almir, Almir viene da una storia imprenditoriale di successo, ma aveva fatto questa piattaforma che permetteva di prenotare i ristoranti, la cosa più semplice, forse più banale con la tecnologia. Però è riuscito a fare, ha costruito una storia che proprio qualche settimana fa TripAdvisor, una grandissima azienda americana, è venuta e ha comprato come leader italiano e oggi lui è diventato manager di questa multinazionale sull'Italia. E quello che è stato bello è vedere la sua storia da due persone quando sono entrati a crescere e a svilupparsi da più di 15 quando poi le hanno acquistate in meno di un anno e mezzo. Una crescita, una velocità che nasceva proprio da quella contaminazione continua che si crea tra persone di questo settore. ma Cesare Caciti ha 15 anni. A 15 anni gli hanno regalato a Nove un kit di elettronica e a 15 ha costruito la prima stampante 3D. Vuole portare le stampanti 3D sul mercato consumer e sta costruendo una stampante da 300 euro per far sì che ognuno sia una cosa accessibile a chiunque. A 15 anni. Sono storie incredibili, non solo per il talento di queste persone, ma perché spesso non le conosciamo perché spesso i media ci parlano ogni giorno di quanto l'Italia vada male e non esalta queste storie bellissime di un paese che cambia, di un paese bello, di un paese che è riconosciuto e conosciuto a livello internazionale per le sue eccellenze. E lasciamo queste eccellenze totalmente da sole, totalmente nella loro stanza, nella loro azienda, nella loro attività e non facciamo sistema, non cerchiamo di aiutarli. E quello che è accaduto quando provi a fare una cosa di questo tipo, quando provi a mettere delle storie insieme e non ad aiutarli dall'alto, perché noi non eravamo dall'alto, noi eravamo ragazzi che anche noi facevamo questa attività e che semplicemente credevamo di avere bisogno per noi stessi di contaminarci, di crescere insieme agli altri, perché non c'è qualcuno che oggi ti possa insegnare. Devi essere tu che vai e cerchi le tue informazioni dagli altri e quella contaminazione che si crea nel lavorare insieme è forse la cosa che ti fa crescere di più. E quello che è successo è stata una cosa bellissima, perché una serie di amici, una serie di persone da tutta Europa ci hanno detto vogliamo replicare questa storia, crediamo che costruire un luogo di questo tipo possa impattare, possa migliorare la nostra città, perché non esisterà più un unico centro della creatività come forse accadeva 500 anni fa con Firenze, con le grandi città che conosciamo. Questa innovazione oggi è diffusa, non chiede il permesso in qualsiasi posto e quindi hanno detto possiamo replicare questa cosa nel nostro territorio, perché vogliamo impattare. E quello che è accaduto è che dieci persone si sono messe insieme e hanno creato dieci campus di Talent Garden in giro per l'Europa, facendo oggi non dieci singoli luoghi come spesso avviene, perché ognuno in Italia vuole farsi il suo, vuole provare a costruirsi il suo co-working, il suo spazio, e quando vede una bella idea prova a copiarla. In questo caso è successo una cosa meravigliosa. Queste persone si sono messe insieme e hanno detto prendiamo un modello che già funziona e proviamo a replicarlo nel nostro territorio, perché crediamo che il valore del network sia unire più punti insieme, unire più filosofie insieme e non creiamo semplicemente dieci co-working in giro per l'Europa, ma creiamo il più grande player nell'innovazione in Italia e in Europa. Seconda cosa che è successo è che abbiamo selezionato su questi territori più di 500 persone, 500 persone che si occupano di tecnologia, che si occupano di innovazione, che si occupano di creatività, di più diversi e gli abbiamo detto se vuoi c'è un posto dove puoi stare, c'è un posto dove puoi far crescere la tua azienda, dove puoi far crescere la tua professione, ciò che stai facendo. E questo non è semplicemente un entrare in uno spazio di lavoro condiviso, ma è un credere che quel territorio si possa cambiare, che io voglio crescere e contaminarmi con il resto del mondo. E questo ha fatto sì che oggi non abbiamo semplicemente dieci campus per quanto belli, per quanto studiati, dieci giardini, ma abbiamo soprattutto 500 piante che dentro questi Italian Garden vivono, ogni giorno crescono, si sviluppa e lavorano nei diversi spazi, contaminandosi. Perché quello che avviene è che io posso rimanere a Brescia, posso rimanere sul mio territorio, ma nel momento in cui devo sviluppare il mio progetto, la mia attività dall'altra parte del mondo, a Barcellona, a Milano o da qualsiasi altro punto, ho un posto che mi aiuti a farlo, ma non ho soltanto uno spazio fisico, ho una community di persone che mi aiuta, che è interessato. Perché? Perché siamo vicini, perché abbiamo le stesse idee, perché siamo riuniti dalla stessa passione. E diventa un acceleratore naturale di idee, di passioni, di competenze, ma soprattutto di attività. Perché oggi i nuovi creativi, i nuovi imprenditori non sono più semplicemente dei creativi, ma sono soprattutto degli imprenditori, delle persone che prendono in mano il loro futuro e provano a costruirselo. E in un momento in cui l'Italia va male non chiedono il permesso, non dicono come faccio a fare, tutto va male e si deprimono da questa cosa, ma cercano di costruirselo, costruisendo aziende, costruendo progetti, cambiando le cose come noi oggi le conosciamo, con quell'ingrediente magico, la tecnologia che noi crediamo essere trasversale a qualsiasi settore ed essere la cosa che davvero ti permette di cambiare. Qua abbiamo scritto 500 talenti in Italia, li aiutiamo. Il tema non è aiutare loro perché noi dall'alto possiamo aiutarli, il tema è siamo tutti talenti, il tema è semplicemente lavorare insieme, provare a fare un pochino più sistema perché in questo modo non cresciamo solo noi, ma cresce tutto il sistema e tutta l'Italia, rendendola ancora più bella e la vera bellezza dell'Italia. Grazie.